Provedimenti come quello che ci prepariamo a votare oggi o domani sono particolarmente indicati nel quadro economico che ci troviamo a vivere, che sono caratterizzati da alcuni indicatori che bene lo descrivono. Innanzitutto il PIL è previsto in calo anche quest'anno del 2% con un dato peggiorativo rispetto a quanto previsto solo ad aprile nel DEF, di oltre mezzo punto. E questo per quanto riguarda l'andamento del PIL. L'altro fattore che ben descrive lo stato della nostra economia è la pressione fiscale, è un argomento su cui sono tornati anche i miei colleghi e basta pensare che è del 68,3% la quota di utili dell'impresa che vengono destinati all'imposizione fiscale, un dato che ci pone quasi 30 punti sopra la media dell'Ocse. Ma anche per quanto riguarda il cuneo fiscale che grava sui lavoratori siamo ai vertici di questa triste classifica. Due esempi per tutti. Su un singolo in Italia c'è un lavoratore, c'è un cuneo fiscale del 47,6%, del 38,3% per famiglie monoreddito con due figlie a carico. In entrambi i casi, in tutte le fattispecie comunque dei vari nuclei considerati, siamo oltre 12 punti superiori a quella che è la media Ocse. E del resto la prova che questo tipo di intervento, quindi l'utilizzo dell'elevare fiscale, sia particolarmente potente, ce l'abbiamo leggendo i dati dell'indagine Cresme-Enea relativi al 2012, i quali segnalano che gli interventi riconducibili a questi stimoli per la riqualificazione energetica degli edifici sono 1.400.000, per un valore generato di 17 miliardi e 55.000 nuove assunzioni ascrivibili appunto a questo tipo di incentivi. fra l'altro a beneficiare di questi stimoli sono state soprattutto le piccole e medie aziende e noi sappiamo quanto importanti siano queste per la struttura economica del nostro Paese, ne costituiscono l'asse portante. E fra queste piccole imprese, questo è stato ricordato anche prima dell'intervento dell'onorevole realacci. Il settore che ha beneficiato in primis di questi incentivi è stato proprio quello dell'edilizia, che fra tutti i settori che compongono la nostra economia è quello che più di altri ha risentito gli effetti di questa crisi. Il settore dell'edilizia è da ormai sei anni in recessione, senza soluzione di continuità, compreso quindi anche il 2011 che invece ha visto dei dati positivi per quanto riguarda il resto dell'economia. È il settore che dal 2008 ha perso più di 11.000 aziende per fallimento e rappresentano il 23% dei fallimenti totali registrati nello stesso periodo in Italia, per una perdita di posti di lavoro fra diretti impiegati e complessivi di quasi mezzo milione, cioè praticamente la metà di tutti i posti di lavoro persi nel nostro Paese. Fatte queste premesse, dunque, non possiamo che valutare favorevolmente, ad esempio, l'innalzamento al 65% del bonus fiscale per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica. Questo anche per creare un delta significativo rispetto all'incentivo che c'è sulle ristrutturazioni, visto il diverso impegno finanziario e di produzione di certificati che questo intervento richiede. Anche il mantenimento fra gli incentivi degli impianti a pompa di calore e gli impianti geotermici ci trova favorevole e conseguentemente a questo aspetto troviamo logico il nostro emendamento che prevedeva di riposizionare i tetti di spesa massimi ammissibili fra solare e termico e questi impianti di produzione di calore. Positiva anche l'introduzione del concetto di edifici a quasi emissione zero, anche se in considerazione della molle di investimenti necessari per adeguarsi a questa caratteristica e vista la prossimità della data del 2018 che è prevista appunto per l'adeguamento degli edifici della pubblica amministrazione, avremmo consigliato di affiancare fra le risorse dal fondo per il teleriscaldamento e per l'accessione di quote di anidride carbonica anche l'esclusione di questo tipo di interventi dal patto di stabilità interno per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni periferiche che sappiamo si dibattono in gravi difficoltà finanziarie. Per quanto riguarda l'attestato di prestazione energetica anche qui siamo consapevoli che ormai il tema era ineludibile, non più rinviabile, pena ulteriori richiami da parte dell'Unione Europea non comprendiamo però perché si sia andati oltre quanto previsto dalla direttiva comprendendo anche i trasferimenti a titolo gratuito fra quelli che devono essere accompagnati da questo attestato obbligatorio. Inoltre ci sembra che i 120 giorni concessi agli edifici delle pubbliche amministrazioni con superficie superiore ai 500 metri quadri per produrre questo tipo di attestato siano effettivamente pochi, sempre per le considerazioni già fatte, cioè scassità di risorse disponibili e difficoltà appunto e il costo legato alla produzione di questo tipo di attestato. Per quanto riguarda l'estensione del beneficio fiscale di ulteriori 10.000 euro per l'acquisto di mobili, forni in classe A e superiori ed elettrodomestici A più e superiori è particolarmente positivo se consideriamo quali sono i settori che ne beneficiano e cioè il settore del mobile che ha dei distretti sparsi più o meno in tutto il nostro Paese e per l'altro è all'arribata delle cronache le difficoltà drammatiche in cui si dibatte il settore del mobile imbottito ad esempio in Puglia e il settore del bianco cosiddetto che per numero di addetti fra i settori appunto manifatturieri in Italia è secondo solo quello dell'auto. A questo proposito vista l'eseguità della somma noi proponevamo che il periodo di ammortamento fosse almeno ridotto a cinque anni, almeno per quelle persone di una certa età che hanno un orizzonte temporale limitato davanti a sé che possono essere appunto poco incentivate a vedere una cifra così esigua diluita in dieci anni. Infine concordiamo pienamente nell'opportunità di riconoscere fra i requisiti che qualificano gli operatori del settore, cioè quegli addetti agli impianti alimentati da energie rinnovabili, fra questi appunto requisiti quello di avere lavorato e prestato l'opera nelle imprese del settore. Concludendo, quindi il tipo di intervento, l'utilizzo della leva fiscale e la direzione seguita diciamo incontra il nostro favore. Al punto che i nostri emendamenti andavano nella direzione di rafforzare appunto questo intervento perché prevedevano un arco temporale prolungato, annuale, quindi con scadenza 30 giugno del 2014 e prevedevano l'estensione di questi benefici anche ad un altro settore che è quello della ricezione turistica che ha bisogno di interventi non compresi in questo piano di incentivi per l'adeguamento per esempio alle norme antincendio. Ma, e qui arrivano le critiche, si agisce timidamente per piccoli passi in modo secondo noi non proporzionale alla gravità della situazione che stiamo vivendo. E questo perché il bonus di base è che si agisce in modo superficiale sul reperimento delle risorse. E questo è un esempio che è eclatante, quello del comportamento che ha tenuto il Governo quando c'è stato da reperire nuove risorse per un emendamento che è condiviso dalla totalità delle forze politiche di questo Parlamento e quello che prevede il mantenimento dell'IVA agevolata per i supporti integrativi ai libri di testo. E qui abbiamo assistito a dei balletti anche un po' imbarazzanti, rinvii continui, commissioni riunite convocate e sconvocate per poi proporre una cosa assolutamente rinviata immediatamente al mittente come l'aumento della città sui carburanti e al punto che siamo ancora in attesa di una copertura definitiva. Noi invece siamo dell'idea che servano e siano urgenti, non più rinviabili, interventi radicali di ristrutturazione della spesa pubblica. Questi sono interventi non più eludibili e noi ne abbiamo indicati due. Uno che ha un forte valore simbolico e di giustizia sociale e che è quello del tetto alle pensioni d'oro che superano i 5.000 euro mensili ottenute con il sistema retributivo. Questo dovrebbe essere un punto al centro dell'agenda di governo che si trova ad operare in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo. Il secondo invece è proprio risolutivo anche dal punto di vista della quantità di risorse liberate, che è quello dell'attuazione finalmente degli otto decreti sul federalismo fiscale che appunto attendono solo di essere attuati. Sappiamo che questi libererebbero risorse nell'ordine di decine di migliaia di miliardi e sarebbe forse questa l'azione risolutiva. Troveremo le risorse necessarie per dare finalmente la scossa al Paese, quella scossa di cui il Paese ha bisogno per liberare le sue risorse e tornare a crescere. Speriamo, e nessuno se lo augura, che questo tipo di decisioni radicali e risolutive non si devono prendere in futuro, perché si è procrastinato troppo la decisione, in un quadro sociale e politico molto più drammatico e critico di quello che stiamo vivendo adesso. Nessuno se lo augura. Ci vuole la consapevolezza che queste scelte siano ineludibili, ma si vuole soprattutto coraggio. Il coraggio che questo Governo dei piccoli passi, degli interventi timidi, appena bozzati, ha dimostrato di non avere.